Nelle Marche abbiamo la necessità di mettere in rete le nostre infrastrutture ferroviarie, rafforzando un sistema che chiameremo di metropolitana di superficie, che sia davvero l'alternativa all'uso quotidiano dell'auto per creare un vero sistema di trasporto pubblico locale al servizio delle nostre comunità, ad esempio di Fano, di Pesaro, di Marotta Mondolfo, di Senigallia, che serva tutto il nostro territorio e quindi che serva i nostri comuni in nome della sostenibilità.